Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, si appresta a portare in scena un progetto unico in Italia, ovvero Twin Color, un'opera audiovisiva che combina l'arte della musica dei sintetizzatori a quella del visual dei videogiochi, un progetto che si potrà vivere presso la sonosfera dal 27 maggio al 9 giugno. Twin Color è un progetto artistico in prima nazionale, significa che la parte live del progetto è per la prima volta che si ospita in Italia, ma soprattutto è qui a Pesaro che è nata la componente creativa ad hoc, size specific, pensata, creata per la sonosfera. Un progetto che si inserisce nella nostra sezione che è la natura vivente della cultura, che come ormai si sa è la sezione che contiene i grandi appuntamenti internazionali della programmazione di Pesaro 2024, è un progetto a cui noi abbiamo tenuto molto e teniamo molto perché ci consente di esplorare in maniera profonda il tema della natura e della cultura. Gli artisti, Murkoff e Simon Gelfius, esploreranno una foresta immaginaria, quindi entreranno dentro una narrativa che ci consente di poter ipotizzare da un punto di vista creativo come l'intervento umano inaspettato dentro un ecosistema può effettivamente generare dei processi trasformativi. Quindi molto coerente con il progetto della sonosfera, molto coerente con il nostro tema, ma soprattutto straordinariamente affascinante dal punto di vista creativo, proprio perché si utilizzano i linguaggi dei vecchi sintetizzatori, messi insieme ai linguaggi dei videogiochi, tutto questo ovviamente in una partitura sonora dal grande fascino emotivo. Sono gli stessi artisti, ideatori del progetto, a raccontarci come nasce questo lavoro artistico, ma soprattutto come si sviluppa e come lo hanno strutturato per adattarlo alla sonosfera. La musica ha diversi progetti che partono dall'anno 2020 e poi sono poi continuati fino ad oggi. Presenta diverse influenze, sia ambientali, ma anche e soprattutto troveremo anche la voce di mia figlia, perché mi ha aiutato a costruire questo progetto e quindi sentirete anche la voce di una piccola bambina. Ho utilizzato per la base diversi sintetizzatori, quindi dei synth, che riprendono anche le radici da cui sono partito negli anni Ottanta. Ho voluto coinvolgere Simone e quindi abbiamo parlato insieme per riprendere anche dei tratti che riguardano la old school per combinare musica e parte visual ed è per questo anche che ho deciso di continuare e riprendere l'uso dei synth. Simone e io abbiamo iniziato questo progetto nel 2009, poi l'abbiamo portato avanti anche nel 2014-2015 e all'inizio aveva un approccio diverso rispetto a questo progetto, rispetto a quello che abbiamo adesso. Abbiamo quindi iniziato a collaborare nel 2014 e siamo partiti proprio dall'idea di combinare il mondo dei videogiochi con il mondo della musica. A quel tempo infatti Simone, corregimi se sbaglio, stava progettando dei software proprio con i software che si utilizzano per i videogiochi e quindi abbiamo voluto continuare con quest'idea di combinare la tecnologia alla musica. Simone appunto si è occupato della parte visual in modo tale da poter creare questo progetto che combini musica e software tecnologici. È stata davvero una sfida poter creare questo progetto e soprattutto adattarlo alla sonosfera perché solitamente c'è l'immagine che è al centro e i suoni che provengono dai lati mentre in questo caso abbiamo dovuto fare in modo che ci fosse una continuazione a 360 gradi sia per le immagini che per i suoni appunto. In realtà ovviamente siamo partiti dallo stesso progetto quindi per renderlo più universale e combinare anche la musica quindi diciamo che è più una continuazione rispetto a un'evoluzione del progetto stesso. L'idea appunto era quella di partire dal mondo dei videogame e poter adattare appunto questa installazione al nuovo mondo che è appunto quello della sonosfera. Quindi diciamo che in realtà è come se avessimo condensato tutto il nostro progetto all'interno della sonosfera per permettere la visualizzazione e l'ascolto a 360 gradi.